Tutti i mesi noi facciamo una bottiglia che rappresenta il mese di questo incontro cenacolare. Questo signore qua da quando ha cominciato a seguire i nostri incontri dopo questo mese la prima volta è venuto con una bottiglia con un'etichetta e allora tutti i mesi facciamo un'etichetta per nuova. Questo è il vino del Salento, Terra Anima, ok? Un gran vino tra l'altro, sono due, e questo è il simbolo del nostro cenacolo, questo è ricamato a mano da mia sorella. Caro Tony ti ascolta eh? E questa è la seconda bottiglia che è un rosso rosato e una delle due è un omaggio per questa signora che ci ospita l'etichetta del mese dedicata al cenacolo che abbiamo fatto con lei lo scorso anno e quindi questa è l'etichetta del mese. La cosa che Carmen deve decidere è se vuole il rosso o il rosato perché l'altra la stappiamo. Non la teniamo? Quale vuoi? Non la teniamo noi. Non per me. Non la teniamo noi, ma guarda sono identiche. Una per te la teniamo a casa. Quale preferisci? Rosato o rosso? Ma guarda che io non bevo il vino. Ma lo bevo io non ti preoccupare. Rosato o rosso? Apriamo rosato. Questo è il vino per voi. Bene. Ok. Grazie. Grazie. Grazie.